E questi sono gli accoppiamenti per la finale, un applauso! Ragazzi, in bocca al nuovo a tutti, spellatevi le mani perché dobbiamo sostenerli, la Kitchen Swing è pronta, quindi ragazzi, warm up tutti insieme, poi spotlight, un'uscita a testa e all skate tutti insieme. Vai Kitchen Swing, musica! A presto! A presto! A presto! Ok, allora ci allineiamo tutti qua pronti per lo spotlight. Vediamo qua, la coppia uscirà una per volta e quindi avrà modo di farsi apprezzare dai giudici con un'esemizione singola e poi tutti quanti insieme per l'old skate finale. Kitchen Swing, siete pronti? One, two... I finalisti sono pronti, vai! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.